Benvenuti sulla mia barca La Fresh Spirit solo per membri. Vi presento il mio chef Eugenio, che oggi ci ha preparato spaghetti al pomodoro fresco con basilico. Che bontà! Voglio discutere per l'ultima volta quella sera a Austin's e avevo bisogno di un po' di tempo da solo e mi sono fermato per una tazza di caffè. Sì, caffè. E quando si beve il caffè si va nel bagno. Sì, bagna. Accuse teoriche isteriche. Grazie per la visione!